La regione è una regione leader in questo, abbiamo lavorato molto e la consideriamo una grande priorità. La regione Lombardia è la prima regione in tema di presti unit, abbiamo realizzato una rete di presti unit e cioè di centri di sinodologia, cioè ci sono 28 centri che sono specializzati nella presa in carico delle donne con il tumore al seno, per mettere insieme tutti i professionisti che si occupano della prima forma di tumore per le donne è anche quella che ha maggiore mortalità. L'assessore Gallera ha già trovato un tracciato di dove è la regione Lombardia su questo tema che colpisce un numero molto rilevante di persone, vogliamo di oltre 10.000 casi che si verificano annualmente. Oggi noi però vogliamo dire grazie anche alle associazioni di volontariato che sono la vera risorsa di questa regione senza le quali non potremmo garantire livelli di welfare a 360 gradi così come siamo in grado di garantire. Quindi il fatto di essere qui oggi a dare questo riconoscimento, di affrontare un tema molto importante come quello del tumore al seno e che questa cosa venga fatta in Consiglio regionale mi ha molto piacere come Presidente del Consiglio.